Cambiare casa può essere una delle emozioni più belle della nostra vita, ma anche diventare un incubo agghiacciante. Molte persone pensano di poter far da sole e hanno ragione, ma affidarsi all'agenzia e alla tua casa tra il baldo e il garda significa guadagnare tanta serenità, tanta qualità di vita e risparmiare un sacco di soldi. Per esempio c'è chi si mette a cercare la nuova casa prima di mettere in vendita la vecchia, perché ha paura di rimanere senza un tetto sulla testa. Purtroppo spesso la trova, se ne innamora, ma non la può comprare. Infatti la maggior parte delle persone deve vendere la vecchia per avere i soldi e acquistare la nuova. Questa delusione spinge alcuni a perseverare nell'errore. Fermano la casa nuova con preliminare caparra. Tanto pensano la nostra casa la vendiamo in un attimo. Passano i mesi, si avvicina la data in cui dovranno acquistare la nuova e la vecchia, dove hanno sbagliato il prezzo, fatta una pubblicità improvvisata e non sono stati in grado di trattare gli eventuali interessati, non si vende. In compenso si sono giocati ogni momento del proprio tempo libero per far vedere casa degli sconosciuti che poi si fan di nebbia. Ecco che l'ansia ti prende è l'unica soluzione che intravedi e abbattere il prezzo della vecchia nella speranza che qualcuno la compri, oramai in tempi brevissimi, togliendoti dalla brutta situazione in cui ti sei cacciato da solo. Risultato? Il nervosismo si somma alla delusione di non poter acquistare la casa desiderata e alla frustrazione di dover perdere la caparra o ancora peggio di dover svendere la vecchia per cercare una soluzione. Tanti problemi, tanti pensieri, tanti soldi buttati via. Se vieni nell'agenzia la tua casa tra il baldo e il garda, tutto è semplice ed organizzato. La tua casa verrà messa sul mercato e venduta con il giusto tempo che ti permetterà di scegliere la nuova. Tutto sarà sincronizzato per far sì che anche il trasloco non diventi un problema. Nel frattempo tu continui a fare la tua vita, a goderti il tuo tempo libero, i tuoi figli, le tue passioni e a sorridere. Vuoi cambiare casa? Parlane con noi!